e alla fine si parla sempre di stati uniti italia cina ma ci sarà qualcos'altro al mondo insomma ci sono più di 193 nazioni riconosciute dall'onuo non è che si possa solo investire in tre le altre che fanno non crescono oggi ti voglio dare cinque nazioni e per cui 5 etf ad esse correlate che possono essere considerate per un eventuale portafoglio di soli etf o magari per andare a diversificare i mercati solidi ma senza puntare su singole aziende magari perché non si conosce o magari perché si capisce poco questi mercati ma te ne parlo subito dopo la sigla ciao a tutti e bentornati sul canale io risparmio e sono sempre pasquale il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto oggi torniamo a parlare come ogni venerdì di etf ed in questo caso andiamo ad affrontare dei mercati che a mio parere sono un po' bistrattati per cui poco considerati ma che secondo me possono essere parte di un bel portafoglio diversificato per quanto riguarda il video di oggi saranno solo ed esclusivamente i mercati sviluppati mentre successivamente in un video che andò a pubblicare più avanti andremo anche a prendere in considerazione alcuni dei mercati cosiddetti emergenti o in via di sviluppo ovviamente ricordo che queste sono solo mie valutazioni personali e non sono consigli finanziari per cui ovviamente non sono consigli di investimento o per gli acquisti ma semplici spunti di riflessione andrò a lasciare comunque gli isi nei ticker qui sotto nella descrizione del video ma se avete altre idee o domande su altri paesi fatemi sapere tra l'altro ho aggiunto fondi che sono solo disponibili a investitori italiani mi sarebbe piaciuto aggiungere in debilità altri paesi che non sono in questo video come per citarne uno la svezia ma che non ho trovato con etf utilizzabili dagli investitori retail italiani per cui sappiate che se non ci sono alcuni paesi magari li avrei voluti aggiungere a questa lista ma non ho potuto per una cosa pratica perché non tutti potevano andare a comprare basta parlare andiamo al pc e cominciamo partiamo dal primo etf l'iShare MSCI Australia uses etf che va a replicare l'indice delle società australiane ad alta e media capitalizzazione Australia è un paese che mi piace tantissimo ho puntato tante aziende in watch list e ovviamente è uno di quei mercati che secondo me è molto sottovalutato ma che gli investitori statunitensi e canadesi considerano molto più vicino proprio per una questione culturale è un indice che andiamo a vedere subito questo etf va a fare una replicazione fisica totale è in us dollar e non ha copertura valutaria ha un fondo più o meno grande di 514 milioni di euro con un tell dello 0 50 per cento con una politica a accumulazione andiamo a vedere quelle che sono le prime dieci partecipazioni di questo indice che dall'alto vanno a comporre il 56 per cento di tutto il resto in totale sono 63 per cui diciamo che è un indice fortemente concentrato nelle prime dieci se si può così così si può dire sono tutte aziende che molto probabilmente a noi non dicono niente ovviamente in questo caso come dico sempre pur essendo un indice e per cui seguendo un intero mercato mai fidarsi andate sempre ad approfondire se volete andare a investire in uno strumento tutte le aziende o almeno le prime dieci come in questo caso che sono parte di questo indice per capire di cosa trattano se ad esempio un indice è più o meno esposto come quello italiano al bancario o all'assicurativo e capire quali sono le dinamiche che potrebbero andare a impattare quell'indice ovviamente già le prime tre vanno a occupare quasi un 30 per cento di tutta l'esposizione per cui è molto concentrato già vedo la prima Commonwealth Bank of Australia è una banca per cui è orientato molto sul finanziario andiamo ad informarci sempre se andiamo a parlare di rendimenti è un indice che negli ultimi tre anni ha fornito un 31 e mezzo per cento è comunque un indice che segue sempre un po quello che il mercato quasi nord americano sempre in crescita qui almeno parte questo etf dal 2010 più o meno dal 2010 a oggi ha dato un 128 per cento più o meno un 12 quasi un 13 per cento per cui un paese che adoro molto che mi piacerebbe molto valutare per i miei prossimi investimenti il secondo il tanto amato odiato l'ixor fu z100 per cui va a replicare le 100 più grandi aziende del regno unito ex unione europea adesso non più andiamo a parlare di un fondo di media capitalizzazione 316 milioni di euro che ha una replicazione sintetica per cui non è di tipo fisica ha una valuta in great british pound e non è coperto dal punto di vista valutario ma un ter bassissimo 0 14 per cento pur avendo una replicazione di tipo sintetico per quanto riguarda i rendimenti in questo caso anche questo indice è sempre un indice che è salito da sempre ovviamente qui è stato creato questo etf poco prima della crisi del 2008 e per cui si è avuto questo calo però diciamo dalla sua creazione ad oggi ha dato un 60 per cento è un indice ovviamente che non ha reso tantissimo con questi due cali negli ultimi tre anni ha dato solo un 13 e mezzo per cento però diciamo che l'uscita dall'unione europea ha impattato sicuramente tantissimo su quello che è il rendimento di questo indice comunque il regno unito a mio parere il regno unito non dovrebbe mancare in un buon portafoglio bilanciato terzo etf questo è un UBS che ho trattato anche in passato quando parlavo di aziende svizzere è un MSCI Switzerland 2035 eggiato in euro cosa del 2035 replica i principali titoli azionali del mercato svizzero ha una copertura valutaria in euro la regola del 2035 limita il peso della più grande società al 35 per cento e di tutte le altre a un massimo del 20 per cento andiamo a vedere un attimino l'indice un po' più nel dettaglio è un etf molto piccolo meno di 80 milioni di euro però una replica fisica totale e ha copertura valutaria con un ter dello 0,30 per cento è un etf molto ma molto concentrato se si vede le prime dieci partecipazioni vanno quasi a un 73 per cento dell'indice su un totale di 41 troviamo però grandissimi nomi nelle prime dieci posizioni abbiamo Nestlé, Roche, Novartis, Zurich Insurance, UBS, ABB insomma aziende conosciute un po' da tutti in termini di rendimenti questo indice è un indice che cresce piano piano ma praticamente cresce sempre anche se questo etf è abbastanza nuovo perché è nato solo nel 2020 e infatti se andiamo a vedere i rendimenti essendo nato da poco non sono eccezionali però vi posso assicurare che l'indice svizzero sono andato a controllare su un qualsiasi tool ad esempio TradingView ha dei rendimenti piuttosto interessanti quarto etf iShare MCI Corea questo etf va a seguire anche con la regola del 2035 in questo caso però sono tutti i titoli coreani ad alta e media capitalizzazione il peso del gruppo delle entità più grandi è distretto al 35% mentre tutte le altre ha un massimo del 20 un fondo che è più grande di quello svizzero 109 milioni di euro per cui un fondo di media capitalizzazione replicazione fisica totale non ha copertura valutare ed è in dollari americani un ter piuttosto alto del 0,65% anche in questo caso politica ad accumulazione per quanto riguarda le prime 10 posizioni sono un 58% su 110 e quella più grande è la Samsung che occupa un 29% abbondante per cui in questo caso sappiate che se comprate Samsung o comprate questo etf più o meno potreste fare la stessa cosa anche perché per le prime 10 ci sono altre diramazioni di Samsung Samsung Electric, Samsung SDI però nell'indice troviamo anche Kakao, Hyundai, LG, Kia Motors aziende molto conosciute anche dal punto di vista della diversificazione per settori qui abbiamo quasi un 44% di informatica beni volutari un 10, telecomunicazioni un 9 finanza 8,75 e altri che sono quasi un 29% in termini di rendimenti questo etf è stato creato più o meno nel 2010 e ha dato ad oggi più o meno un 108% ha avuto dei picchi di un 154% ovviamente nel lunghissimo periodo si potrebbe guardare con quasi con un 12-13% di Kakao su base annua considerato che la Corea è un paese molto ma molto industrializzato e sviluppato negli ultimi tre anni però ha avuto delle forti rintracciamenti dovuti molto probabilmente all'ultimo anno e in tre anni ha dato più o meno un 23% che sono più o meno un 8% su base annua ultimo etf dell'otto l'Ishare MSCI Canada anche questo è un new sits ad accumulazione e all'epica i più grandi liquidi titoli azionari canadesi il fondo è enorme con un miliardo e due di dimensione una replica fisica totale una valuta in US dollar con un ter 0,48% politica ad accumulazione e scusate ho dimenticato di dire che non è coperto il cambio le prime 10 partecipazioni su 89 operano quasi un 48% dell'indice abbiamo Shopify Royal Bank of Canada Toronto Dominion BNS Bank of Nova Scozia uno dei titoli che ho nel mio portafoglio personale Brookfield Asset Management un'altra azienda che ho puntato da un po' Enbridge anche questa azienda che ho puntato da un po' Canadian Pacific Railway questa pure ce l'ho nella watchlist le aziende canadesi se non lo capite ve lo dico mi piacciono tantissimo come quelle australiane dal punto di vista dei rendimenti questo ETF è nato nel 2010 e ad oggi ha dato un 130% più o meno anche qui siamo su un 11-12% di CAGR su base ANNA ovviamente ha avuto dei forzi di intracciamenti con l'inizio della pandemia è nato dopo la crisi del 2008 per cui non possiamo vedere quanto avrebbe impattato però si notano che molti di questi titoli sono di tipo finanziario infatti lo vediamo anche per diversificazioni per settori quasi un 39% è finanza un 15 e mezzo energia industria 11 da questo ETF appunto dall'indice canadese mancano come si può notare le telecomunicazioni l'informatica o la tecnologia questo è un indice fortemente orientato all'industriale e alla finanza da tenere in considerazione anche per i propri investimenti per quanto riguarda il risk management rendimenti negli ultimi tre anni di un quasi un 50% male non fa sono più di un 16% su base ANNA questi sono i 5 ETF però volevo portarne un altro che come ho detto mi piace tantissimo come nazione mi piace tantissimo come indice ma non ho potuto trovare nessun ETF tradabile per lo meno per gli investitori italiani l'iShare OMX Stockholm Cup che è un matchpark che va a replicare il mercato azionario svedese il peso di ogni società è limitato al 10% il peso di tutte le società con un peso superiore al 5% è limitato al 40% un fondo grande da 570 milioni quasi di euro una replica fisica totale la valuta è in sec per cui corone svedesi e non hanno copertura valutaria ma un ter bassissimo 0,10 sono 103 le partecipazioni totali e le prime 10 sono al di sotto del 40% Atlas Copco Volvo EQT Telefonica Bogalett Sandvik se avete delle schede di memoria sapete Sandvik cosa sia Atlas Copco anche questa azienda famosa nell'industriale i settori sono principalmente l'industriale quasi un 30% finanza un 13,5% beni voltuari un 8,5% healthcare 5,9% in termini di rendimenti da quando è stato creato l'ETF e ovviamente non l'indice parliamo del 2017 per cui nuovo 55% dal 2017 sono 5 anni per cui più o meno un 10 11% su base anno con un rintracciamento nell'ultimo anno solo del 5,6% però su 3 anni appunto abbiamo quasi un 47% che sono un 15% abbondante su base anno bene questi sono i 5 ETF più 1 il regalo se così si può dire adesso ritorniamo al mio brutto faccione bene eccoci arrivati anche alla fine di questo video dammi le tue impressioni su queste nazioni e ovviamente anche sugli ETF ad esse correlate quali sarebbero altre nazioni di paesi sviluppati che magari avresti peso in considerazione ovviamente con ETF utilizzabili da noi investitori retail italiani spero di avere un tuo feedback qui sotto di poter avere da parte tua un contributo per fare crescere la community con dei nuovi consigli in realtà alcuni broker tipo Saxo Bank che è quello che utilizzo io permettono di andare a comprare alcuni ETF Uchitz come per esempio quello sulla Svezia anche se non sono destinati ai clienti retail non so per quale motivo ma non essendo la prassi ho voluto non inserire questi ETF e per cui queste nazioni dammi un cenno nei commenti qui sotto aiutami a crescere ancora di più con tanti tanti suggerimenti e così aiuti anche gli altri che vanno a leggere questi commenti come sempre ti chiedo di lasciare un bel pollice in su per me e anche per l'algoritmo di YouTube che ogni tanto si accorge che sono qui da queste parti e se sei nuovo sul canale iscriviti e clicca la campanella delle notifiche così che tu non debba perderti nessun contenuto successivo anche per oggi è tutto oggi è venerdì dell'ultimo video della settimana noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovissimo video della serie di buonanotte mercati e buon weekend ciao ciao